Il segretario del PD e il leader del Carroccio commentano le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio al Senato. Soddisfazione di Confindustria per la chiara visione internazionale ed europeista? Ha commentato Bonomi. Sangalli, Confcommercio, spicca il riferimento alla comune responsabilità di una «nuova ricostruzione». «Per la prima volta, nel discorso di un premier, la parità è stata nominata come questione essenziale», commenta la Rete Donne per la salvezza. «Terminate le comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Senato, la politica si scatena sui social. Immedite le reazioni alle parole pronunciate dal neo-capo del governo. Bene il Presidente Draghi. Dalle sue parole una conferma. L'Italia è in buone mani. Il PD farà la sua parte in questa sfida?» Scrive su Twitter il segretario del PD. Nicola Zingaretti. «Pio salute e meno tasse. Più rimpatri e meno burocrazia. Più cantieri e meno sprechi. Responsabilità e rispetto nei confronti delle future generazioni. Orgoglio di essere italiani. Ottimo punto di partenza. Nel nome dell'efficienza. Della trasparenza e del cambiamento. La Lega c'è. Dice il leader della Lega. Matteo Salvini. Oggi l'unità non è un'opzione. L'unità è un dovere. Ma è un dovere guidato da ciò che son certo ci unisce tutti. L'amore per l'Italia. Mario Draghi. La Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie. Maria Stella Gelmini. Su Twitter. Rilancia le parole finali del discorso programmatico del Presidente del Consiglio. Mario Draghi. Al Senato. Oggi in Senato per votare la fiducia al governo Draghi. A chi ancora oggi si domanda. Ma aveva senso aprire la crisi? Rispondo semplicemente di leggere il discorso del nuovo premier. E direte insieme a noi. Sì. Ne valeva la pena. Ha scritto. Invece. Matteo Renzi. Su Facebook. Il discorso di Draghi non ha cinvinto Fratelli d'Italia che resta ferma sulle posizioni espresse nei giorni scorsi. Dopo l'intervento del Presidente Draghi la posizione di Fratelli d'Italia non è cambiata anzi siamo rafforzati nella nostra decisione di non votare la fiducia. Tanti principi generici. Tante astrazioni ma poca concretezza. Specchio delle difficoltà di una maggioranza tanto contraddittoria. Fratelli d'Italia lo spirito repubblicano lo dimostrerà facendo un'opposizione patriottica. seria e leale. Votando quei provvedimenti che ci convincono. Dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Luca Ciriani.